Cari amici di Frenhaus, ben ritrovati. Vi annuncio che da sabato prossimo avremo una nuova rubrica legata alla liturgia del giorno. Siccome la liturgia ha fatto veramente un grande successo sul canale, abbiamo pensato con il gruppo di lavoro di Frenhaus di proporre una liturgia di sabato che possa fare brevemente il riassunto di tutto il percorso settimanale. Vi annuncio fin da adesso che da sabato ci sarà un'illustrazione dell'artista Monica Michelotti, che ringrazio fin da adesso, e che accompagnerà questa nuova rubrica, molto breve, molto sintetica, e quindi il sabato avremo sia la pubblicazione della liturgia del giorno corrente, sia la pubblicazione della liturgia del giorno weekend. Vi aspetto!